benvenuti in questo video corso in cui vedremo come effettuare in maniera semplice delle sessioni di chat cioè di messaggistica immediata ancora più dirette rispetto alle email oppure sessioni di audio e videoconferenza e per fare questo ci serviremo di un potente servizio gratuito e offerto da google che si chiama google engouts non avremo bisogno di scaricare nulla sul nostro computer ma avremo solo bisogno di una connessione ad internet almeno discreta e in questo caso un computer apriamo il nostro browser quindi il nostro programma di navigazione che può essere internet explorer o come io consiglio google chrome all'interno della nostra barra di ricerca di google andiamo a digitare engouts e premiamo invio saltiamo il primo risultato cioè il primo link trovato perché c'è la dicitura annn che sta ad indicare annuncio pubblicitario e clicchiamo sul secondo link quello ufficiale di google google engouts vediamo una schermata molto asciutta con poche voci i tre pulsanti rotondi ci indicano quello che engouts ci permetterà di fare mentre in basso vediamo solo una pubblicità che indica che engouts è la soluzione per comunicare praticamente definitiva perché si può usare su qualunque dispositivo e come scoprirete anche chi dei vostri amici o contatti in realtà non lo usa lo ha per esempio precaricato su smartphone e su tablet per iniziare ad usarlo ci è sufficiente avere un indirizzo di posta chiocciola gmail.com per cui clicchiamo accedi e immettiamo il nostro indirizzo di posta gmail poi avanti inseriamo la password e se siamo su computer non nostri spuntiamo la voce resta connesso ora diciamo gli accedi ed ecco a nostra disposizione il servizio engouts abbiamo pulsanti di scelta sinistra pulsanti rotondi circolari qui nella colonna di sinistra che per noi sarà inizialmente vuota avremo una traccia quindi una cronologia dei contatti che abbiamo nel frattempo avuto quindi le conversazioni che abbiamo scritto e che abbiamo siglato con i nostri amici o conoscenti nuova conversazione è un invito proprio ad iniziare a scrivere quindi in questo caso la chat ancora più immediata dell'email è attivabile direttamente cliccando dentro nuova conversazione o dentro il pulsante messaggio cliccando in nuova conversazione andiamo a digitare un nominativo di nostro interesse quindi andiamo a ricercare chi ci potrebbe interessare per esempio alessandro cliccando su il nome di alessandro e quindi io consiglio la ricerca di effettuarla o per nome di battesimo o per account gmail si aprirà a destra il riquadro di piccola media o grande dimensione con cui parlare in maniera specifica con alessandro in questo caso tramite una chat per cui scelgo a sinistra con chi desidero parlare e se io clicco su un nominativo il nominativo si presenterà sotto forma di riquadro a destra a questo punto se io voglio scrivere un messaggio di testo ad un mio contatto tramite handouts mi basterà scrivergli buona domenica alessandro stiamo registrando un video corso proprio dedicato ad handouts non appena premiamo invio il messaggio viene immediatamente recapitato con la dicitura ora e quindi io so in qualsiasi momento se il mio contatto lo ha ricevuto in che momento l'ho scritto e così via in altro troviamo i pulsanti videochiamata fai clic per avviare una videochiamata oppure il pulsante per creare quello che chiama handout di gruppo cioè parlare o scrivere in questo caso con alessandro e anche con un'altra persona o il pulsante per avviare una chiamata che però io non vi consiglio di utilizzare perché qui la chiamata la intende telefonica per cui io in realtà chiamerei alessandro su un recapito di telefono cellulare e solo per fare questa operazione dovrei acquistare un piccolo servizio a pagamento mentre l'uso di hangout è globalmente gratuito io posso anche cliccare sull'icona forma di volto di emoticon quindi lo smile e scegliere uno stato d'animo che voglio inviare ad alessandro ad esempio l'icona della faccia sorridente la clicco premo invio sulla tastiera e ad alessandro ho mandato anche uno smile se alessandro in questo momento fosse collegato o attivo su hangouts la barra accanto al suo nome la vedrei di colore verde cosa che in questo momento non è per cui alessandro sul suo cellulare o computer predisposto ma in particolar modo per smartphone e tablet alessandro riceverà appena sarà collegato ad internet una notifica che lo avviserà che io l'ho cercato e gli mostrerà questo messaggio a cui alessandro potrà rispondere così come con l'icona a destra allega una foto con un clic un po come accade con le email io posso decidere di caricare foto a mio piacere dal computer semplicemente cliccando seleziona una foto dal tuo computer e confermando poi con il clic sulla foto su seleziona il pulsante videochiamata di cui vi parlavo invece realizza una vera e propria conversazione in audio e in video gratuita mediante hangouts appena io lo clicco vediamo che con chrome si apre un riquadro dedicato ecco il simbolo di hangout la virgola se vi venisse richiesto di consentire di utilizzare la videocamera del microfono clic su consenti la videochiamata parte con un clic sulla cornetta rossa abbandona la chiamata ora in realtà abbiamo interrotto la nostra telefonata prima che alessandro potesse rispondere e quindi siamo tornati a questa posizione di riposo altrimenti entrambi semplicemente usufruendo di una webcam ed un microfono ormai presenti in automatico su tutti i computer portatili avremo potuto dialogare in maniera gratuita con le icone contatti conversazioni e telefonate andiamo in realtà a svolgere esattamente le stesse funzioni che io ho mostrato in questo caso partendo da quella che si chiamava nuova conversazione e che trovavamo proprio in questa colonna qui in alto a sinistra ora è il momento per voi di utilizzare hangout mentre alessandro come potete vedere a destra in questo momento ci segnala un potenziale pericolo e vada a notare sto guidando bene allora al nostro contatto auguriamo buon rientro e buona guida alessandro grazie grazie grazie